La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Tanto tuonò che piovbe. Si è concluso finalmente il fatidico consiglio europeo, l'ennesima caporetto per l'Italia. Non si parla più di Eurobond. Io dico fortunatamente dal mio punto di vista e dal punto di vista di chi ha capito che anch'essi erano una trappola inutile. Ma dobbiamo ammettere che Conte li ha sventolati come un suo successo e come una cosa per lui irrinunciabile. E' tornato il MES che invece Conte aveva promesso che non avrebbe accettato mai. Poi abbiamo il Recovery Fund che è stato rimandato ma comunque se dovesse essere attivato questo strumento sarà finanziato con il bilancio europeo. E come ha fatto presente la Merkel, il contributo dei paesi dovrà aumentare rispetto a quanto pattuito prima della creazione di questo strumento. Ora vorrei ricordare a chi ci ascolta che l'Italia è uno dei principali contributori a quel bilancio. Quindi finiremo con l'aiutarci con i soldi versati da noi. Proviamo allora a ricapitolare. Conte ha detto no al MES e gli Eurobond invece sicuramente sì. L'Unione Europea ieri ha detto no agli Eurobond ed il MES sicuramente sì. Però incredibilmente Conte è riuscito anche a sventolare questa sconfitta come una vittoria. E devo dire che ci sono italiani che nonostante le evidenze gli hanno creduto. Ora che cosa accadrà? Accadrà quello che è già accaduto con Monti, che è già accaduto con Letta, che è già accaduto con Gentiloni. Ossia personaggi che hanno firmato misure che vincoleranno per sempre il paese all'austerity e ai debiti. Il popolo se ne renderà conto quando sarà ormai troppo tardi. Anche Conte, come gli altri, sarà praticamente finito politicamente nel nostro paese, ma avrà avuto un incarico in Europa come ricompensa ai suoi servigi. Per il momento, per resistere, si affida però alla propaganda, che potrà durare ancora per poco, perché come diceva Goebbels, la propaganda funziona sempre tranne di fronte ad un tracollo economico. E quel brusco risveglio per gli italiani sarà purtroppo imminente ed inevitabile. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.